Il bisogno di sicurezza a Parma è molto sentito, me ne sono resa conto ancora di più confrontandomi con le cittadine e con i cittadini di questa città. Credo che un rappresentante delle istituzioni abbia il dovere di ascoltare questa insicurezza, di capirla e di farsene carico, farsene carico trasformandola in impegni concreti come per esempio una maggior presenza di forze dell'ordine e quindi un maggior numero di risorse umane che possano far sentire tutti i cittadini al sicuro e dar loro la possibilità di vivere a pieno e nella serenità questi bellissimi luoghi.